Onorevole De Giorgi, questa candidatura di Taranto per i giochi del Mediterraneo può essere davvero una grande opportunità per tutto il territorio? Certo, è una opportunità che può far conoscere Taranto non soltanto per la città dell'industria, ma valorizzarla da altri punti di vista, quindi le bellezze archeologiche, la sua cultura, la sua storia, i suoi paesaggi, quindi questo progetto ambizioso, il momento che c'è tanto da fare, venuto da Comune e Regione Puglia e poi sicuramente, ovviamente, con orgoglio da Tarantina, fortemente sostenuto dal governo, è una importante opportunità per la nostra città. Saranno realizzate se questa iniziativa andrà in porto infrastrutture di trasporti, si procederà alla bonifica ambientale, alla riqualificazione urbana, perché essere città che occupa i giochi del Mediterraneo 2025 ci fa capire una serie di cose, quindi Taranto è già sulla strada della rinascita, quello che speriamo. Questo progetto potrebbe veramente rendersa nota in tutto il mondo, ma soltanto per l'invita e per i suoi insegnamenti.